Sono tante le nazioni che vorrebbero ospitare un europeo, ecco allora che Platini lancia l'idea perché non organizzare un campionato in tutto il continente, diciamo 13 città. La Turchia che voleva accaparrarsi e l'edizione del 2020 potrebbe dare forfè dal momento che è la possibile favorita delle prossime Olimpiadi. Ecco allora che il presidente della UEFA dice la sua, ascoltiamolo. La nostra idea sarebbe quella di non far disputare gli europei in una sola nazione nel 2020 ma in tutto il continente europeo. Si tratta solo di un'idea. Comunque il comitato esecutivo ha dato il nulla osta per poterci almeno lavorare sopra. Organizzeremo degli incontri con tutte le associazioni nazionali fino a dicembre e di lì a gennaio decideremo se far disputare il torneo in una sola nazione. Con 12 città o se allargarlo a tutta l'Europa per intero, festeggiando così 60 anni di questa grande istituzione. Ossia vorrebbe dire fare un europeo in tutta Europa, 12 o 13 città in tutta Europa. Un'idea che mi garba molto. Un'idea questa molto attraente per la UEFA che permetterebbe di coinvolgere tutte le federazioni nazionali di loro stadi storici. Pensiamo per esempio all'Allianz Arena, Wembley o San Siro. Sono questi i posti a cui starebbe pensando l'ex icona juventina. Platini ha colto anche l'occasione di affrontare argomenti più spinosi come quello della tecnologia in campo prima di incontrare i massimi vertici delle associazioni calcistiche. Sul tavolo della discussione ci saranno infatti due tipi di sistemi tecnologici. In un ultimo l'occhio di Falco già sperimentato nelle leghe minori. Nonostante i vantaggi, Platini non ci vede ancora chiaro però. Io sono assolutamente contro la tecnologia, non in sé per sé, ma proprio per l'arrivo della tecnologia nelle grandi decisioni calcistiche. Ecco, pensiamo per esempio agli italiani e agli spagnoli nel 2002. Se ne andarono a casa, la palla aveva passato la linea nella partita contro la Corea, ricordate? Ecco, perché bisogna mettere la tecnologia sulla linea di fondo? Ecco, per esempio, se domani ci fosse un falo di mano sulla linea da parte di un difensore e l'arbitro non la vedesse, cosa direbbe la tecnologia? Che era dentro o fuori la linea? Ma la palla è stata comunque stoppata con la mano e allora dovremmo a questo punto mettere anche dei sensori sul braccio per capire meglio se è gol o meno. Io personalmente non sono contro la tecnologia, ma contro il suo arrivo in questo contesto, perché poi verrebbe utilizzata in tutto, non solo sulla linea di porta. Buona l'idea degli stadi, ma la versione sulla tecnologia non sembra convincere molto. Grazie.